L'ultima domenica delle città deserte. Lecce si presenta così desolatamente vuota nell'ultimo giorno della fase 1. Qualcosa cambierà, non sarà la libertà dei giorni belli ma è l'ultimo vagito di una città completamente sola. L'unico rumore in sottofondo nella ZTL ancora attiva del centro storico è quello degli uccellini. Il sole di maggio a scaldare le chianche, i bar chiusi ancora per poco, i negozi invece lo saranno ancora per qualche tempo. Un centro storico pensato per i turisti italiani e spesso stranieri, quelli che per un po' probabilmente da queste parti non si vedranno. E c'è chi teme ricadute che in una città pensata per il turismo saranno drammatiche e pensare che questo sarebbe stato proprio il periodo dei turisti seduti al bar, aperitivi, rustici e pasticciotti. Il silenzio della città nell'ultima domenica della fase 1 è quasi spettrale, poi sarà la volta di qualche passeggiata furtiva, dei bar aperti per il solo asporto, del sole che scalda e qualcuno deciderà allora di andare verso il mare. L'ultimo giorno però è quello di una città quasi abbandonata a se stessa, un privilegio camminarci e la fase 1 che si chiude così nel silenzio coerente di una città sola ma con se stessa. Grazie. 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 Grazie.